La, c'è una vetraglia a te, c'è la venta! Ho visto un medico! Sì, c'è un medico! Un medico, demico! Sì, c'è un medico, acerte il dobbiamo di venire! Un medico, un Il Negico, frazzi un症! Mi servono proiettili! Chi ha delle munizioni? Occhi aperti! C'è un ricognitore nemico! Vinto! È un medico nemico! Intratti abriti, c'è la migliore! La migliore intenzione è un riconditore! Il grande di me, il grande di me, il grande di me! Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è un assaltatore! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.